Cosa è andato? Cosa non è andato? Io penso che per 40 minuti abbiamo interpretato bene la gara. Il problema è che quando a questi livelli sbagli più di 15 tiri dai 6 metri difficilmente fai risultato. Poi di conseguenza la squadra avversaria acquista fiducia, tu la perdi e è una catena di situazioni che purtroppo le paghi e hai ancora in maggior ragione qui a questi livelli, purtroppo. Marco e Simone Mengon del 2000 Conleluori non è sceso in capo ma del 2000 pure lui. Bortoli a segno del 2002, impressioni su questi ragazzi? Le impressioni sono sicuramente positive. In queste partite la cosa buona è le esperienze che fanno loro perché obiettivamente sono il nostro futuro e faranno sicuramente bene. È bello vederli, è bello allenarsi con loro. Stamattina parlavamo durante l'allenamento, io e Turkovic, Bortoli è 23 anni meno di me. Dicevo che potrebbe essere mio figlio. Scherzi a parte sono grossi talenti che giustamente devono essere inseriti però nella giusta maniera come stiamo facendo. Quindi loro sono la nota lieta di questa serata. Noi che dobbiamo dare dimostrazione a loro soprattutto che nei momenti di difficoltà non bisogna battersi e quindi continuare a sbagliare ma lottare perché se vogliamo arrivare a certi livelli noi non possiamo permetterci di giocare sul velluto ma dobbiamo sempre lottare su ogni pallo e in ogni situazione. Così come dovrà avvenire contro la Slovacchia ad aprile? Soprattutto contro la Slovacchia perché non dimentichiamo che il nostro vero obiettivo è quello. Loro sono una grossissima squadra secondo me. Per battere ci vorrà la migliore Italia di sempre altrimenti anche lì avremo problemi. Quindi la testa è lì, rivolta lì, tutte le nostre energie per superare e speriamo questo ostacolo. Chiudo facendo un passaggio sulla partita di sabato. C'è la Croazia, insomma una partita di estremo fascino. Immagino non solo per i giovanissimi ma anche per te che hai qualche anno in più. Sì, giocare qui sarà il palazzetto pieno contro la Croazia che si sta preparando ai mondiali è molto affascinante. Speriamo di ben figurare perché loro andranno a 3.000, noi dovremmo andare a 6.000 per poter contrastare minimamente la loro forza. è sicuramente affascinante, la vivremo come un'esperienza che ci serve per crescere.